Natale con i tuoi e Pasqua pure, lì dove possibile. Una Pasqua in rosso causa pandemia, con regole di vieti che fino al 5 aprile dovranno essere rispettati nel nostro paese. Innanzitutto niente pranzi lucugliani nei ristoranti che sono chiusi, come anche i bar, niente picnic e gite fuori porta a Pasquetta. Fuori dalla porta si può uscire per fare una passeggiata, ma solo nei pressi della propria abitazione. I pubblici esercizi sono aperti solo per asporto o consegne a domicilio. È possibile fare visita a parenti e amici, ma solo una volta al giorno, al massimo in due, oltre ai figli minori di 14 anni o alle persone disabili conviventi. Sono chiusi i negozi di abbigliamento, calzature, gioellerie, parrucchieri, centri estetici e barbieri. È possibile partecipare alla messa nella chiesa più vicino a casa. Non è consentito invece spostarsi in altre regioni in queste vacanze pasquali, ma si può andare all'estero, cosa questa che ha fatto discutere. Non poco intensificati i controlli anticontagio da parte delle forze dell'ordine. Dunque assembramenti vietati arrestano valide le semplici regole di igienizzazione delle mani, distanza e soprattutto mascherine per proteggere se stessi e gli altri. Una Pasqua che sia di resurrezione per tutti, è questo l'augurio. Una Pasqua rossa, ma con la voglia di un futuro prossimo in cui il colore predominante sia quello della speranza. In molti sono costretti a trascorrere la Pasqua lontano dai propri affetti e in questo caso il vituperato spesso web ci aiuta. Gli auguri più sinceri che diventano da virtuali a reali. Il Covid non intacca fede e tradizione però con il pensiero per chi crede al Cristo risorto e le mani in pasta per i tradizionali dolci come pupe e cavalli in Abruzzo. L'uovo di Pasqua che non manca mai è l'attesa sorpresa che si spera possa giungere presto di una pandemia di cui parlare al passato, remoto. Molto dipende anche da noi per far sì che questi sacrifici di Pasqua possano portare ai risultati sperati e non vanificare quanto fatto finora. Soprattutto per non dimenticare chi dal Covid è stato sconfitto. Il pensiero alle loro famiglie, alle famiglie di chi è stato colpito, ma anche ai sanitari che proseguono il loro lavoro non conoscendo ferie e a tutti coloro volontari soprattutto che non fanno mancare un po' di affetto ai nuovi poveri che con la pandemia sono sempre più nuovi per tutti. Una Pasqua buona e una buona Pasqua.